La prima cosa che voglio dirvi è grazie, grazie per tutto quello che avete fatto in questi mesi. Oggi il primo pensiero è stato ringraziare tutti gli operatori Casa Sollievo della Sofferenza per il contributo che hanno dato alla Regione e a me personalmente nella lotta contro il coronavirus. Sono stati determinanti nel consentire al sistema sanitario pugliese di sopportare questa ondata di tsunami. Ma ovviamente la mia gratitudine si estende a tutti i settori in cui questo ospedale che è una delle eccellenze del sistema sanitario pubblico pugliese consente di arrivare. Abbiamo avviato anni fa la cardiochirurgia con una mia iniziativa che ha dato vita ad una straordinaria eccellenza. Sono uno degli ospedali che ci consente la maggiore mobilità attiva, cioè assorbe pazienti da altre regioni. Esiste ancora un limite del tetto che il Ministero ci impone per i DRG, il fatturato di questo ospedale, che noi vorremmo insieme rimuovere per consentire a questo ospedale, ma anche agli altri ospedali della Regione Puglia pubblici, ma di proprietà ecclesiastica o privata, di contribuire alla riduzione dei viaggi della speranza. Questo è il progetto e con un particolare riferimento alla medicina del Gargano. Questo è un ospedale che si vuole collegare con i medici di medicina generale, si vuole collegare con i luoghi più difficili da raggiungere. Abbiamo preso un'intesa per costruire la telemedicina per consentire, ripeto, anche nei luoghi più inaccessibili, il massimo della resa sanitaria possibile. E ho avuto davvero ancora conferma di una evoluzione anche nell'organizzazione sanitaria di questa struttura che si proietta fuori dalle corsie dell'ospedale e si allarga a tutta la medicina del territorio. Quindi un grazie sentito a Casa Sollievo della Sofferenza e ovviamente a tutti i suoi operatori.